mercoledì 8 maggio 2024 buongiorno un calcio a tutti amici benvenuti a questo nuovo video allora prima di parlare delle notizie del giorno la solita raccomandazione preghiera tra virgolette mi raccomando siete tantissimi che vedete i video da non iscritti vi chiedo la cortesia iscrivetevi a voi non cambia nulla a me cambia tantissimo e soprattutto non vi costa nulla mettete un bel mi piace condividete con gli amici e fatemi sapere cosa pensate di quello che vi dirò ovviamente rispondo a chi dice non dici nulla di speciale o critica io dico semplicemente la mia ragazzi e poi è molto facile fare commenti commenti magari ma anche mandati no da ex amici e da in videosetti eccetera io dico la mia semplicemente se vi va di ascoltare di discutere ne parliamo se invece volete criticare basta ci sono altri mille canali dove ci stanno 8 mila commenti andate a fa gli haters li a me non mi interessa proprio e vi rispondo in video non vi risponderò mai in testo non vi darò mai importanza questo ci tenevo a precisarlo per le persone insomma maleducate che non capiscono che mezzo di comunicazione in social e di scambio d'opinioni è ovvio che io non dico nulla di speciale perché non sono il re della comunicazione o il re dello scoop io esprimo semplicemente la mia opinione sulla mia roma sul calcio in generale quindi è tutto qui se vi va di confrontarvi sono sempre a disposizione e ovviamente tempo permettendo cerco di rispondere quasi sempre a tutti quindi questa premessa insomma era d'obbligo perché ogni tanto arrivano commenti così e sinceramente voglio specificare sempre che tipo di persona sono e quello che voglio fare con questo canale voglio semplicemente dire la mia e confrontarmi con gli amici che mi vorranno seguire oltre ovviamente a farvi vivere le emozioni dello stadio avete visto e quest'anno insomma vi ho fatto vedere già se non sbaglio 25 partite e vi ho fatto vedere quello che succede fuori quello che succede dentro e quello che non si vede in televisione durante l'intervallo nel prematch e quindi tutto qui va bene e fatta questa parentesi iniziamo allora 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 oggi ragazzi oggi è 10 rifinitura e prima anzi dovrebbero entrare in campo a breve sembra prima delle 10 credo 9 e mezza speriamo che a Tricoria non c'è il traffico che c'è per resto di Roma perché se no la rifinitura inizia tardi ragazzi questi e questa settimana dopo i due dopo i due ponti no perché il 25 aprile mi sembra che è venuto del giovedì sì di giovedì e il primo maggio è venuto mercoledì quindi ha spezzato bene le settimane chi è stato fortunato addirittura si è fatto credo due settimane di ferie con quattro giorni con quattro giorni di ferie proprio perché c'erano questi ponti allacciati sabato e domenica e chi è stato meno fortunato o se ne è fatto uno o l'altro chi è stato zellato come me se ne è fatto nessuno di due però io il 2 maggio c'è un motivo perché dovevano all'olimpico a vedere Roma a Bayern e proprio Roma a Bayern è l'argomento logicamente di oggi intanto possiamo dire per quanto riguarda la Serie A appena orta appena orta Cristante sembra che se la sia cavata non è stato squalificato quindi da sta famosa bestemmia che sembra essersi sentita alle telecamere io vi dico la verità ho rivisto solo gli highlights e non ho visto questo episodio di Cristante non posso giudicare però insomma visto visto quanto è accaduto per la situazione ai cerbi Juan Jesus io credo che sia una decisione una decisione giusta anche perché voglio dire siamo esseri umani è sbagliato è sbagliato bestemmiare e se per questo è maleducato anche dire parolacce però nell'essere umano ci sta che possa possa eccedere qualche volta quindi insomma punire punire poi esclusivamente solo chi dicono loro io credo che sta volta sia una decisione giusta quindi Cristante si è salvato capitolo capitolo Europa League la Roma lo sappiamo deve fare l'impresa la Sud ha messo uno striscione avete visto fuori di rigoria molto molto bello 90 minuti più recupero detigna core me lo so scritto detigna core sudore tornate con onore è chiaro il messaggio della Sud ma di tutti noi tifosi cosa vogliamo è ovvio che sappiamo che chi meglio del tifoso romanista sa che nello sport se può perdere no quindi noi noi come tifosi abbiamo sempre accettato la sconfitta ovviamente quella meritata sul campo quindi battiamo le mani per ora all'everkusen per la vittoria all'andata qui da noi perché avevano fatto un'ottima partita noi possiamo recriminare qualcosina perché potevamo quanto meno segnare con Ebram o Azmon negli ultimi minuti purtroppo c'è mancata la digna la digna e la grinta e quindi andiamo andiamo in Germania con un risultato molto molto pesante da recuperare abbiamo parlato di impresa qui cadiamo nell'ovvietà ma è così che va chiamata cioè se la Roma dovesse mai riuscire a fare questa rimonta sarebbe qualcosa di epico anche perché avverrebbe fuori casa e quindi però i tifosi il messaggio è chiaro dice voi andate lì fate la vostra partita mettetecela tutta sudate correte fateci vedere che ci mettete il cuore per la maglia che noi amiamo e per noi va bene così ci avete provato quindi è chiaro il messaggio della Sud e vediamo insomma una Roma stanca cosa riuscirà a fare contro una squadra che sembra ormai imbattibile e che ha imboccato la stagione perfetta che rischia tra virgolette di fare triplete perché se come sembra passerà con noi e andrà in finale anche la finale di Coppa di Germania lo scudetto già l'ha vinto il campionato tedesco insomma potrebbe diventare una stagione memorabile per Leverkusen che fino a qualche tempo fa veniva chiamato Leverkusen perché non vinceva mai quindi sarebbe una stagione memorabile per la squadra di Leverkusen e di Ciappi Alonso per quanto riguarda noi Di Bala nel giorno di riposo che era lunedì insomma si è fatto un po' di fisioterapia per cercare di recuperare questo fastidio muscolare che ha sentito con la Juve e che l'ha fatto uscire lesione lo sappiamo non c'è ringraziando il Signore però comunque sia sappiamo che Paolo ci deve convivere e che ogni tanto deve tirar fiato quindi oggi sarà decisivo capire se questo dolore sarà sparito ma da quello che filtra da Trigori è che comunque Paolo vada all'Leverkusen anche se non dovesse giocare è già pronto Baldanzi che secondo me ha fatto la prima bella veramente prestazione con la Roma domenica con la Juve mi è piaciuto molto al di là dell'azione che poi ha portato al gol di Lukaku che l'ha fatta proprio sotto ai nostri occhi ma anche l'azione nella ripresa sempre in dribbling arrivato sul fondo l'ha messa dietro per Pellegrini che poi ha tirato a botta sicura e se non sbaglio non mi ricordo se Bremer, Danilo o qualcun altro l'ha deviata in calcio d'angolo ma al di là di questi due spunti Baldanzi l'ho visto molto attivo quindi secondo me meriterebbe una chance anche se in questo momento non è decisivo in fase di conclusione però secondo me la partita di domenica dimostra che il ragazzo sta in palla sta bene e potrebbe secondo me dar il suo contributo quindi se non dovesse essere possibile mettere Paolo perché ricordiamo che poi c'è Bergamo che è ancora importante mentre questa è un'impresa Bergamo è veramente importante quindi vediamo Ddr che deciderà vediamo Daniele De Rossi che deciderà se rischià Di Bala, rischiare tutto per tutto rischiando di tenere una vicina a Bergamo se metterà Tommaso Baldanzi e Di Bala si riposerà ancora un pochino per poi cercare di essere decisivo domenica con la TEA quindi queste le situazioni di campo per il resto insomma torna Selic ringraziando il Signore e mi pare evidente che sarà lui titolare della fascia destra e come sempre sulla sinistra ci sarà Spina sappiamo ormai, l'abbiamo capito, Angelinho è il titolare della fascia sinistra tranne i rari casi in campionato e Spina se fa l'Europa League quindi speriamo bene Spina che in fase di copertura soffre un po' ci avrà un cliente scomodo che è Frimpong quindi speriamo che Spina abbia più opportunità d'offende significa che la Roma farà gioco una cosa secondo me che sarà fondamentale e spero che Daniele lo dica ai giocatori e cercare di tirare da fuori cosa che facciamo sempre meno secondo me sia Brian Cristante che Paredes ce l'hanno forse anche Lorenzo ma magari più da vicino il limite dell'aria però secondo me Cristante e Paredes devono fare quello che ha fatto il giocatore che ha segnato il 2-0 delle percuse provarci, provarci poi prima o poi qualcosa di pericoloso nasce lui ci ha provato in quella partita me la so rivista perché poi io soprattutto le sconfitte le devo capire bene soprattutto quando hanno vato allo stadio me la so rivista e ci ha provato 4-5 volte e mi pare che la quinta ci è riuscita e gli è uscito pure fuori quindi secondo me io se fossi in De Rossi direi ai miei ragazzi di provare il tiro da fuori sicuramente e comunque vediamo vediamo come andrà ovviamente il discorso che facevamo ieri sera nel POV di ieri sera che è fondamentale è una settimana cruciale ovviamente perché se domani insomma non dovessi riuscire non dovesse riuscire alla Roma al miracolo c'è la seconda opportunità che è quella con l'Atalanta però De vince perché ovviamente poi se non vinci o addirittura perdi ragazzi senza Champions cambia tutto cambia tutto perché bisognerà veramente puntare sui giovani e cercate di costruire un progetto sostenibile questo mi appare evidente anche perché noi abbiamo firmato un accordo proprio con la UEFA di accortezza economica chiamiamolo così e quindi se non ci saranno entrate pesanti come le garantisce la Champions ovviamente dovremo fare di necessità virtù fare un progetto di capoccia quindi costruire una squadra giovane e forte io se guardo l'Atalanta se guardo il Bologna credo che sia possibile fare questo tipo di lavoro ovviamente ad oggi non abbiamo un DS quindi non so chi lo farà però sembra sembra che sia insomma ufficializzato che sia Modesto Modesto del Monza anche se alcuni sostengono che in realtà non sia così perché sta lavorando per il Monza ma io credo che sia ovvio che Modesto stia concludendo degli affari per il Monza ma nel frattempo stia anche incominciando a lavorare con la Roma la cena famosa di qualche tempo fa tra Galliani e la Soloco insomma dimostra quello che se è trovato un accordo tra le due società per questo passaggio andrà solo andrà solo ratificato a giugno poi vediamo vediamo il calcio è un mondo che riserva sempre sorprese quindi vediamo magari magari realmente hanno ragione quelli che che dicono che non è più Modesto la scelta della Roma e tanto anche sempre riguardo il mercato il discorso Plus Valencia Fritkin sono stati prosciolti rimane indagato invece Pallotta ci sono alcuni affari De Freel Zaniolo una ingolanna che stanno sotto la lente di ingrandimento perché secondo la procura ci stanno dei valori confiati eccetera però insomma è un processo lungo molto molto difficile dimostrare che siano stati realmente confiati questi prezzi quindi probabilmente non ci saranno grosse conseguenze né per Pallotta né per la Roma a livello sportivo né anche per le altre società società insomma coinvolte anche perché insomma non si parla dei giocatori che valgono che valevano un euro e sono stati pagati 20 milioni ma tutti i valori del mercato che insomma all'epoca c'erano quando De Freel è venuto alla Roma insomma valeva poi se non sbaglio Frattesi era incluso un De Freel ma mi ricordo o forse De Freel e Frattesi sono nati per i Pia Pellegrini ma non mi ricordo che anno era so quei scambi che fanno le società che ovviamente poi si mettono d'accordo a livello pure del bilancio di vabbè io te lo valuto questo tu me lo valuti quello famo questo più questo insomma sembra che sarà tutto tempo sprecato per la Repubblica la Procura intanto prosegue anche discorso stadio altro discorso che se può paragonare nel caso verrà costruito a miracolo come quello che deve succedere all'Evercusa domani sera però insomma i Frittkin non vogliono che il leader si blocchi per colpa loro quindi stanno cercando di andare avanti su tutto quello che è di loro competenza quindi si sono incontrati con lo studio che lo dovrà progettare questo nuovo impianto e hanno parlato di terreno di gioco di cercare ovviamente di farlo con tutti i criteri all'avanguardia attuali di tecnologia perché insomma anche la tecnologia sarà importante all'interno di un impianto di costruzione in questi anni 20 del 2000 anzi in questi ormai fine anni 20 perché stiamo già a metà anni 20 saremo nel 2025 fra 6 mesi quindi i Frittkin vanno avanti poi vediamo ovviamente sappiamo benissimo in che nazione viviamo sappiamo benissimo in che città viviamo città dove è possibile costruire dei centri commerciali a casa e anche in zone dove ci sono riserve naturali però non si possono fare centri sportivi non si possono fare stati si possono fare solo palazzi palazzi villette e centri commerciali se devi fare qualcosa per lo sport e devi fare muretto di spogliato che non lo fanno fa questo rimane un mistero secondo me desta cacchio di città che non capirò mai però magari un giorno arriverà qualcuno a spiegarmelo no qualcuno sicuramente più importante di me quindi ragazzi l'unica cosa che ci dobbiamo augurare è che la Roma inizi subito forte domani ripeto Leverkusen sicuramente è una grande squadra ma se dice il pallone è rotondo perché può andare da qualsiasi parte quindi l'importante sarà sicuramente l'atteggiamento ripeto non sarà facile abbiamo visto ieri Paris Saint Germain pensava no pensava beh sì ho perso una zero i distruggo in casa ho perso in casa il Dortmund va in finale e nessuno l'avrebbe prevista all'inizio stagione il Dortmund in finale Champions quindi nel calcio tutto può accadere è ovvio che è una mission impossible però se mai ce provi mai ce puoi riuscire quindi è giusto lo striscione della sud è giusto l'atteggiamento dei tanti tifosi ma è giusto anche essere realisti e non illudersi perché io sento anche ah chi in segreto non è non è romanista no regà non è non funziona così non funziona così questo estremismo che sei da Roma solo se sei scemo perché ce devo credere per forza io ce spero da tifoso ma come faccio a crederci a una missione impossibile come faccio a crederci ce spero impariamo se pure a usare i termini ce spero da tifoso ce spero ma ce credo è molto diverso molto diverso perché credere che a Roma va là e gliene fa tre dopo che che questi insomma Roma ci hanno non dico fatto una cavoccia così ma comunque ci hanno dimostrato che sono una squadra imbattibile impenetrabile ma come faccio a crederci ce posso sperare il termine giusto è sperarci e comunque se ce spero sono romanista uguale a te anzi in alcuni casi forse di più quindi in consiglio che do a conduttori radiofonici a giornalisti locali non scrivete queste cose perché non è che chi ne la pensa come voi o usa i termini giusti non è romanista come voi mi sembra veramente una barzelletta come al solito questo e con questo ragazzi io vi auguro una buona giornata buongiorno un calcio termina qui ci vediamo domani mattina giorno giorno della partita e poi ci vediamo logicamente domani in serata intorno alle 21 perché ci seguiremo insieme Bayer Leverkusen Roma e qualsiasi emozione avverrà che ovviamente speriamo sia positiva per la nostra Roma la vivremo insieme un bacio dal vostro Max ciao 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 Grazie a tutti.